Benvenuti ragazzi, oggi parliamo delle eresie, eresie che si sono formate a causa della corruzione della Chiesa a partire dalla seconda metà dell'undicesimo secolo. E appunto abbiamo detto la causa è la corruzione della Chiesa perché come sapete la corruzione della Chiesa era già abbastanza evidente, molti ecclesiastici commettevano simonia e concubinato, per cui c'è la parte dei laici, c'è la parte degli stessi fedeli, si sente il bisogno di ritornare alla povertà evangelica, proprio ai dettami del Vangelo, alla Chiesa originaria. Per cui ecco che proprio per opporsi alla corruzione della Chiesa e per invece ottenere, inventarsi una Chiesa diversa, nascono le eresie. Perché chiamate eresie? Perché ecco certi movimenti pauperistici si mettono contro la Chiesa ufficiale, per cui la Chiesa ufficiale li considera eretici, cioè fuori dai canoni della Chiesa e addirittura contro i canoni e contro la dottrina della Chiesa. Allora, una delle prime eresie è il pataringhismo. I suoi seguaci si chiamavano Patari, va bene, nasce a Milano nella seconda metà dell'undicesimo secolo e addirittura i seguaci di questa eresia si pongono così tanto in contrapposizione con i preti, i vescoli, insomma gli ecclesiastici corrotti, che invitano i fedeli a disertare le funzioni religiose condotte da sacerdoti corrotti. Infatti la sostanza del ragionamento del patarianismo è quello che, visto che i ecclesiastici sono corrotti, una cerimonia religiosa, una messa celebrata da un prete corrotto non ha nessun valore. Quindi, ecco, tanto vale che gli stessi fedeli abbiano un rapporto diretto con Dio e con la fede cattolica. Un'altra eresia importante di questo periodo è l'eresia valdese. Allora, Pietrovaldo è fondata dall'ex mercante Pietrovaldo che viveva a Lione, quindi in Francia. Allora, Pietrovaldo è un mercante molto ricco il quale ad un certo momento della sua vita fa quella che sarà la scelta di San Francesco, cioè vendere i suoi beni, vendere tutto quello che ha, vendere tutte le ricchezze che possiede e darle ai poveri. E quindi fonda un movimento che però si oppone alla chiesa, a differenza, come sapete, del francescanesimo, appunto il movimento della chiesa valdese che si diffonde in Francia ma anche nell'Italia settentrionale. Allora, Pietrovaldo vuole ritornare proprio alla povertà, alla povertà del Vangelo, come è appunto un valore autenticamente religioso, autenticamente evangelico. E siccome anche lui rifiuta la mediazione dei preti corrotti, che cosa fa? Traduce il Vangelo in lingua volgare, in lingua francese praticamente, in maniera tale che i suoi fedeli possano leggere direttamente il Vangelo senza aver bisogno del latinorum ecclesiastico. Allora, tuttora questa chiesa valdese, nonostante appunto le persecuzioni della chiesa ufficiale, tuttora esiste, non è più considerata eretica e la trovate soprattutto nell'Italia settentrionale. Allora, sempre con la stessa intenzione nasce un movimento di donne, le beghine, le cosiddette beghine, che anche loro escono fuori dalla chiesa ufficiale e per, diciamo, vivere una vita autenticamente povera e religiosa e si mettono in aiuto dei poveri e dei malati, si dedicano anche a filare e a tessere, fanno opera di evangelizzazione nel senso appunto della povertà evangelica, tanto che ad un certo momento vengono anch'esse dicharate eretiche. Vengono dicharate eretiche tra il 1312 e il 1318, tanto che tutt'oggi nell'immaginario collettivo il termine beghine o pinzocchiere, questo era l'altro termine, pinzocchiere, con cui venivano chiamate queste donne, assume un significato dispregiativo, un significato negativo, no? Perché le beghine sono le bigotte adesso, sono le zitelle bigotte che fanno le pettegole, si permettono di giudicare gli altri, eccetera, eccetera. Insomma, beghine è diventato sinonimo di bigotte. Un altro movimento molto importante è quello dei catari, che nasce in Italia centro-settentrionale e anche nella Francia. si sviluppa soprattutto nella Francia medionale, in Provenza, e ha come centro proprio la città di Albi, che si trova in Provenza. I catari sono molto radicali, infatti il termine deriva dal greco kataros, che significa puro. Loro si considerano i puri, rifiutando appunto la mediazione della chiesa ufficiale, che considerano corrotta. Infatti i catari hanno una visione molto manichea della religione. Per loro esiste un dio del bene che lotta contro un dio del male. Ora, tutto ciò che è bene dovrebbe essere puro, no? Ed è legato alla sfera religiosa, alla sfera spirituale, alla sfera dell'anima. Mentre tutto ciò che è male è legato ai beni terreni, anche al corpo. Infatti questi catari, alcuni di questi catari, si fanno morire proprio digiunando. Cioè arrivano a digiunare e il digiuno comporta il rifiuto del cibo. E il cibo, essendo qualcosa di terreno e comunque un male, arrivano a digiunare fino a farsi morire, a lasciarsi morire. E quindi capite che una chiesa che, diciamo, mirava ai beni terreni non poteva essere altro che una chiesa che loro rifiutavano totalmente. E quindi ecco che i catari vengono subito dichiarati eretici. E tra il 1208 e il 1209 lo stesso papa, il Nucenso III, bandisce una crociata contro gli albigesi. Crociata contro gli albigesi, ripetiamo, perché Albi era proprio il centro della, diciamo, della predicazione catarina. E quindi questo diventa un modo per conquistare il sud della Francia, che era molto ricco perché lì esistevano appunto le proprietà feudali. Pensiamo alle corti feudali della Provenza, no? Che appunto diedero origine alla litiga provenzale. Questo fu un modo affinché il nord della Francia conquistasse il sud molto ricco, il sud ricco delle corti feudali, e quindi fu un modo anche affinché non solo il nord della Francia si patronisse del sud ricco, ma un modo per cui il provenzale divenne un dialetto, cioè venne relegato a dialetto, e si affermò anche linguisticamente il francese, la lingua d'oil. Allora, quindi abbiamo capito che la Chiesa non cerca di dialogare con questi eretici, e si pone in una posizione di lotta, di contrapposizione violenta. Infatti contro l'eresia dal XIII secolo la Chiesa fonderà il Tribunale dell'Inquisizione. Praticamente gli eretici venivano arrestati da questo tribunale, giudicati, processati con anche la pratica della tortura, per cui una persona che veniva dichiarata eretica, che poi non è detto che per forza si dovesse essere patari o catari o valdesi, bastava anche esprimere un giudizio contro la Chiesa o comunque parlare con un valdese, con un patarino, va bene, con un eretico, per essere incriminati, oppure bastava essere denunciati da qualcuno, va bene. E con la tortura si confessava, si confessava per forza, no? E si veniva condannati o alla confisca dei beni, e i beni andavano a colui che denunciava, oppure addirittura a rogo, va bene? Cioè ha la pena di essere uccisi col fuoco. Vediamo un'immagine di un condannato a rogo, eccolo qui, non è una bella immagine, però la Chiesa ha spesso, diciamo, condannato gli eretici a rogo. Comunque, per risollevare la Chiesa, che era comunque corrotta, cioè su questo non ci sono dubbi, nascono i cosiddetti ordini mendicanti, chiamati così perché questi frati, questi monaci, vivono chiedendo l'elemosina, cioè mendicando, no? Chiedendo l'elemosina. Allora, nel 1203, un frate spagnolo, Domenico di Guzman, fonda l'ordine dei frati predicatori o domenicali. Allora, il suo intento è quello di opporsi agli eretici con la dottrina, con la predicazione teologica. E allora, se gli eretici erano preparati dal punto di vista dottrinale e teologico, anche i frati domenicani dovevano esserlo. E quindi questi domenicani, che, a differenza degli altri ordini monastici, avevano il convento non fuori dalla città, ma all'interno della città. Ma perché, secondo San Domenico, dovevano essere in cammino, cioè spostarsi all'interno della città e anche fuori di città in città per predicare la dottrina della Chiesa. E quindi, appunto, per, diciamo, convertire gli eretici, dovevano, convertire o comunque contrastare gli eretici, dovevano essere preparati teologicamente. E infatti, tra i dominicani, per esempio, ricordiamo San Tommaso, il quale fu un grande filosofo e teologo del suo tempo, del Medioevo. Un altro ordine mendicante è quello fondato da Francesco d'Assisi, il quale nacque ad Assisi tra il 1181 e il 1182. Anche lui, come Pietro Valdo, era figlio di un ricco mercante, però decide di vendere tutti i suoi beni, cioè di proprio rifiutare tutti i suoi beni e di darli ai poveri. E così fonda l'ordine dei frati minori o francescani, i cosiddetti poverelli d'Assisi, che vivevano con, diciamo, l'elemosina, attenzione, non il denaro, ma proprio quello che davano loro da mangiare le persone che li vedevano in giro. Oppure anche col loro lavoro, facendo i contadini. L'ordine venne riconosciuto come regola nel 1223 e poi, come sappiamo, tre anni dopo, nel 1226, San Francesco morì. Dopo la morte di Francesco, però, i francescani, come sappiamo, si dividono tra conventuali e spirituali. Allora, Come sapete, i conventuali erano quelli che non seguivano alla lettera la regola francescana, ma perché? Perché la regola francescana di povertà assoluta era troppo, diciamo, pesante, difficile da seguire, per cui questi monaci preferirono vivere in un convento e comunque possedere qualcosa, che so, anche dei terreni, va bene? Dei terreni, naturalmente, posseduti dal monastero. Mentre gli spirituali erano quelli che rimassero fedeli alla povertà francescana, cioè la seguivano alla lettera, va bene? E quindi, ecco, rimase questa differenza tra conventuali e spirituali. Comunque, dobbiamo dire che sia San Domenico che è San Francesco, uno con la predicazione della dottrina, l'altro con la carità, perché San Francesco non voleva che i suoi monaci andassero a predicare. Voleva che i suoi monaci contrastassero le eresie non con la parola, non con la dottrina, ma con il loro esempio di vita. E il loro esempio di vita era quello della carità, dell'unità, della perfetta letizia. E allora, proprio questi due ordini mendicanti, i dominicani da un lato con la dottrina, i francescani dall'altro con la carità, riuscirono comunque a rinnovare la chiesa e contrastare le eresie. Come vediamo in questa immagine, eccola qui, come vedete appunto, queste sono le zone cattoliche, in verde vediamo la diffusione dell'eresia valdese, in lilla vediamo la diffusione dell'eresia catara, va bene, però come vedete a contrastare queste due eresie ci sono, con i puntini rossi, ci sono i conventi francescani e i conventi domenicani. Va bene, quindi vedete che, come sostiene anche lo stesso Dante, come sostiene lo stesso Dante nel canto undicesimo del Farediso, il canto dedicato a San Francesco e poi nel dodicesimo, quello dedicato a San Tommaso, che è un dominicano, va bene, sia i francescani che i dominicani riuscirono a salvare la chiesa e a riportarle in un certo senso sulla retta via. Va bene, e con questo abbiamo finito.